L'ictus cerebrale, chiamato anche stroke dalla terminologia inglese, è uno dei più gravi problemi sanitari e assistenziali in Italia, rappresentando la prima causa di invalidità permanente e la seconda causa di demenza, nonché la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. In Italia ogni anno vengono colpite da ictus 200.000 persone, numeri questi destinati ad aumentare in proporzione all'invecchiamento della popolazione. Diventa per questo indispensabile non solo una corretta informazione, ma anche lo sviluppo di una cultura della prevenzione che possa arginare la patologia. L'IRX Neuromed è ormai da anni impegnato nella lotta all'ictus sia dal punto di vista operativo tra i reparti della clinica che dal punto di vista informativo ed è proprio in occasione della giornata mondiale contro l'ictus cerebrale che l'Istituto di Pozzilli promuove momenti di confronto e di prevenzione. L'ictus cerebrale è causato dall'improvvisa chiusura o rottura di un vaso e dal conseguente danno alle cellule del cervello. La caratteristica principale è la sua comparsa improvvisa, solitamente senza dolore, solo nell'emorragia cerebrale e spesso accompagnato da mal di testa. Non sottovalutare i sintomi è il primo passo verso un intervento tempestivo e quindi più efficace. La parola d'ordine è agire immediatamente chiamando il 118. Le due tipologie di ictus sono completamente diverse tra loro, ma entrambe legate al fattore tempo. Per l'ictus ischemico un punto di svolta importante arrivò nel 1995, quando si cominciò ad usare, inizialmente negli Stati Uniti e poi in Europa, la cosiddetta terapia trombolitica, capace di sciogliere i coaguli sanguigni. Significa far tornare a circolare il sangue nell'area colpita e prima lo si fa, minore sarà il danno per i neuroni. La stroke unit del Neuromed unica in Molise è diretta dal dottor Antonio Sparano che così illustra la sua attività. Nella nostra stroke unit siamo autorizzati a fare la trombolisi endovenosa, che può essere fatta in pazienti che arrivano nell'unità, che hanno avuto un esordio sintomatologico nell'arco di 4 ore e mezza massimo, questa è la finestra terapeutica. In più, altro compito è quello della gestione. La gestione vuol dire la corretta assistenza fatta da un team multidisciplinare composto da un neurologo che è di guardia H24, c'è la disponibilità cardiologica, l'implementazione della riabilitazione precoce nelle prime 24-48 ore, che viene fatta attraverso una valutazione di un fisiatra e con l'ausilio di un fisioterapista. Questa unità ha dimostrato che, a prescindere dall'erogazione della terapia specifica in acuto, permette anche di diminuire drasticamente le complicanze di natura medica che un paziente con ictus può avere. Solo nelle strutture dedicate, chiamate stroke unit, è possibile eseguire una terapia trombolitica per l'ictus ischemico entro 4 ore e mezza dall'inizio dei sintomi. È lì il traguardo di questa corsa contro il tempo per la salute del cervello. La tempestività della diagnosi e del trattamento salva il cervello, come il tempo in passato si diceva, salva il cuore, salva il muscolo cardiaco. Quindi noi andiamo pari passo con la cardiologia nel concetto del prima si interviene più si salva tessuto cerebrale. Questo è molto importante. Quindi è la prima bisaglia di un sintomo acuto neurologico che può essere una parestesia da un lato, un problema di debolezza di un arto, una cefalea strana che non è mai capitata prima, insomma, un disturbo della vista ad un occhio improvviso. Tutto questo deve far pensare al paziente, insomma al cittadino, di ricorrere quanto prima alle cure mediche. A volte questi sintomi compaiono solo per alcuni minuti, poi scompaiono completamente. Si parla in questi casi di attacchi ischemici transitori, TIA, molto importanti in quanto rappresentano un campanello d'allarme che richiede un consulto medico immediato con eventuale ricovero. Un corretto stile di vita basato sull'attività fisica quotidiana, un'alimentazione sana e la limitazione di alcol e fumo è indispensabile affinché quei famosi numeri possano diventare decrescenti.